Estorzioni ad alto livello e infiltrazione nella giudicazione di appalti anche per la messa in sicurezza di una scuola e la costruzione di una diga. In 29 sono finiti in manette nell'ambito dell'operazione denominata la morsa sugli apparti pubblici, coordinata dalla locale direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria. Gli arrestati sono appartenenti alle cosche commisso di Siderno e Aquino di Marina di Gioiosa Ionica. Tra gli affari più importanti da cui l'Andrangheta ha ottenuto i maggiori guadagni vi è senza dubbio quello del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti, settore nel quale, secondo una logica di spartizione dettata dagli equilibri mafiosi, la cosca commisso ricorreva le tipiche condotte estorsive, nell'imposizione alla ditta capofila del versamento di una somma di denaro per ogni trasporto effettuato. L'Andrangheta imponeva i propri diktat alle imprese impegnate nell'esecuzione di consistenti lavori pubblici, attraverso il versamento di somme di denaro calcolate in percentuale rispetto all'importo complessivo stanziato dalle pubbliche amministrazioni. La riscossione del pizzo ha interessato anche i lavori di distribuzione delle acque e della diga compresi nel tratto Siderno-Gioiosa Ionica, affidati grazie ad un finanziamento di 2 milioni e mezzo di euro alla ditta Progress e lavoro Società Cooperativa di Polistena, alla quale veniva imposto di pagare il 3% dell'importo complessivo dei lavori. Complessivamente l'indagine ha consentito di assicurare alla giustizia elementi di assoluto rilievo nel panorama dell'Andrangheta calabrese. Tra questi, oltre al più volte citato personaggio cardine dell'inchiesta Giuseppe Commisso alias Il Mastro, di è l'anziano boss Salvatore Aquino, leader indiscusso e temuto della famiglia, accusato di associazione mafiosa nell'articolazione della Cosca Aquino, operante a Marina di Gioiosa Ionica, il quale partecipava ad incontri e riunioni assieme al Mastro per definire le doti dell'Andrangheta e condizionare la politica locale. Grazie a tutti!